la salita bella raga oggi andiamo in culo a milano come tipo esattamente un anno fa però oggi c'è un sacco di gente partite alla ricerca delle sifanari lo troveremo o no? si nasconde il bastardo eh? si nasconde volete scappare un sacco di gente, un sacco di gente, un sacco di gente un giorno, un giorno scignaccia scignaccia, proprio no nooo c'è da radio oh dove ho? oh no, si oh 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 abbiamo preso il healthy ass food ne ha preso questa tei tovagliodi da mangiare è buono ho preso un sacco di cibo veramente gustoso ora lorenzo schiappeggerà oh brusterà oh 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 fai un back fai un back veloce back subito dopo back 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 siiii 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 vai wiki voglio un full scud full adesso yes yes oh minchia arriva driftando cazzo no vede fatto benissimo devi stare molto attento vai parker ce l'ha rubato uno ce l'ha rubato uno ce l'ha rubato non ce lo ridanno più lo portano lo portano sai dove guardami da me no lo portano lo portano lo portano cazzo 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 aiuto non lo so non è anche divertente la situazione qua il bordo della pioggia di josh serve qua adesso sta fare i turni hai detto che cinque minuti smetteva lui prendiamolo qualcuno lo spacca di bordo siii borgia la confermo la fanno il momento pioggia non ti vedo molto satisfato di questo evento della pioggia Sessione tricking sociale, insegniamo alle persone a tirare i calci. Non è maschilismo che sia un maschio di insegnamento, è che lui capita che è il più bravo, quindi non pensate male. Porco due, mi è entrato un po' di sudore nell'occhio. Non è andata da qui. Adesso prendo le botte. Bele chiappe! Aaaaaah! Costa di via! Aaaaaah! 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 Sì, sì, senza assolutamente minimi di ripeni Signor Biggio, cosa ne pensa di questa gem? Ma, ehm... Aspetta che ci investi Molto interessante We're going home Sai che andano le 34 ore? Ciao zi Saluta il vlog Ciao Abbiamo preso tipo i treni Abbiamo abbandonato gli altri perché hanno le enti Sì, esatto Adesso saliamo sul treno e forse riusciamo anche a tornare a casa Sempre se il treno non va in Brasile Sempre se il treno non va in Brasile a casa di Carlos Perché se va a casa di Carlos io mi incazzo veramente tanto Tu non hai idea Guarda lì, l'uomo di Ovada Dimmi un po' se lo vedi e non è... Cioè, lo vedi subito che è di Ovada Paolo Paolo Corre Luca, basta il finestrino E questo è il rosa E questo è il rosa Lui, lo sai che sei scazzettato Inveglia Adesso non mi ricorda il disco Anzi no Non lo so Vuoi chiamare Paolo E basta Non c'è l'unico Allora Non abbiamo trovato il cibo Non c'è manco l'autobus Siamo facendo la stessa strada che abbiamo fatto prima Io tilto Dobbiamo tornare su di qua Andare a casa a piedi Ma io come fai? Possiamo comprare il gelato Però no, adesso sarà chiuso pure quello Sì, ma no, grazie Sono stanco Sono stanco Sono stanco Sono stanco E cosa ne pensi? È stanco Grazie